Sarà Merassi ad ospitare in questa sesta giornata di serie ai Lunkmat, a scendere in campo con il medesimo obiettivo Sampdoria e Milan. Gli uomini di Giampaolo vanno a caccia dei tre punti dopo il pari di Verona, i rossoneri invece sognano la terza vittoria consecutiva dopo quelle con Udinese e Spa. Ecco le formazioni ufficiali, tra i blucerchiati Ferrari prende il posto di Regini Out per un fastidio alla schiena. Sampdoria, Pugioni, Berezinsk, Silvestre, Ferrari, Strinic, Barreto, Torreira, Praet, Ramirez, Quagliarella, Zapata, Milan. Donna Rumma, Bonucci, Zapata, Romagnoli, Abate, Kessie, Biglia, Bonaventura, Rodriguez, Suso, Kalinic.